Cerco un po' di fare un excursus su quest'anno, su questa stagione politica, raccontando l'attualità ovviamente alla mia maniera, attraverso le vignette, raccontando un po' la loro collocazione storica e niente, insomma ripartendo da dove c'eravamo lasciati. È incredibile come Draghi sia proprio un personaggio che rimane proprio molto low profile, pur essendo un high profile, perché comunque non è conte, non ha quell'esuberanza e quell'attrazione per il proscenio, diciamo che D'Annunzio era appunto un high profile a cui piaceva anche manifestare questo livello alto attraverso le imprese che tutti conosciamo.